La canzone di Maria Stella, versione rock, abbastanza stonata. Questa di Maria Stella è la storia vera, era meglio se ti facevi una pera, invece della riforma della scuola, ti dovevi tirare un colpo di pistola, per risanare tanti troppi ammanchi, a scuola non ci sono più nemmeno i banchi, e mancano le matite e i pennarelli, sono spariti ormai tutti i videlli, manca la carta per fotocopiare, è ancora più inquietante questa cossa, e manca la carta pure per cacare, mia figlia è tornata a casa tutta merdosa, poveri ed innocenti sti bambini, non ti piange punto il cuore o gelmini, poveri disgraziati questi docenti, forse a sessant'anni saranno supplenti, per non parlare dell'università, di questi poveri ricercatori, dottori, quale futuro mai li aspetterà, non vale più la pena esser dottori, quando un ministro vedo il tuo bel volto, mi viene in mente questo paese incolto, pensare c'hai la faccia da maestrina, come puoi della scuola far rapina, questa o Maria Stella è la canzone, del ministero della distruzione, ma resti meglio a darle dimissioni, insomma a levarti dai coglioni, ma resti meglio a darle dimissioni, insomma a levarti dai coglioni, senza rancore naturalmente.